Bossi, mentre noi qui schiena dritta a pagare tasse per voi Terù, Roma ladrona. Io stavo zitto, gli allungavo tra le piacere, ritiravo la mia copia e via. L'avrei ammazzato. Era una specie di zio istruito di Bossi, dalla bocca storta, il cappotto dal collo di pelliccia di volpe stampata in faccia quella supponenza tipica dei milanesi che hanno fatto il ginnasio, convinti che tutta l'Italia, da Bologna in giù, sia abitata da sanguisughe, nager, culatoni e murani. Il giorno prima di partire per gli Stati Uniti, come mi vede arrivare da lontano fa Romano, comoda la vita, eh? E si china a romistare sotto il banco dove nascondeva il messaggero insieme ai giornali porno. Io a giro le dico, la spalanco la porticina, lo agguanto per il collo di volpe, lo estraggo con un'asciuga dal vasetto e gli sparecchio la faccia con uno scalassone tale che è caduto a bocca aperta sopra un cumulo di neve sporca. Sembrava morto. Poi si è rovesciato a sedere sul suo gran culo bianco. oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio 3957, sotterrato nella 2x3 dell'Adiax Florenis, che in confronto all'edicola di via della Moscova era una regia di fratellanza e civiltà. Dieci anni e senza neanche quel mio secondino di giornalaio milanesa e la consolazione di una copia del messaggero da regge all'impietro del Stato. Chissà che fino ha fatto. Domanda retorica, fratellino, lo so benissimo, altrimenti che se la ricordava più la sua edicola. Ho appena letto il suo nome su Facebook, mi è saltato agli occhi perché era sulle varie in cui mi denunciò ai carabinieri, gettato ieri con altre scattoche nella spazzatura. È stato eletto consigliere regionale, l'hanno voluto i romani, che hanno votato Lega. La gente è pazza. Mi avete gettato a faccia in giù nella neve, fratelli miei, ex terum, ma non dicevano che puzzavamo? Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala, è scritto nella Bibbia. E duemila anni dopo, voi che li combinate al vecchio Jack, andate al seggio e con quella stessa mano fate una croce sulla scheda e rivotate Barabba. Allora aveva ragione lui, l'ex giornalaio di Via della Moscova. Romani? Ignorant! ...dagli anni 80 ad oggi diventare tanto stupidi e folli, non cadete per favore. E mi sono ricordato di aver avvertito i primi stricchiolini di questo terremoto del pensiero nazionale, proprio in quegli anni lì, a Milano, quando affamato di soldi e di gloria, al poveriggio facevo il dj in una radio libera e la sera in lavapiatti in un ristorante napoletano. Ero un dj parlante, come il grillo di Pinocchio. Nel mio sparuto pugno di seguaci c'era un grillo del suono della Filinvest, che durante un turno di montaggio fece ascoltare un brandello del mio programma un gran papadero di Canale 5. Correva l'anno 1982, stavano preparando uno speciale con Romina e Albano. Cercavano un autore giovane arrabbiato per dare un tocco di belle alla coppia in procinto di sfondare a Sanremo con felicità. Mi convocavano a Milano 2, un quartiere per soli vitti e come se l'immagina un arricchito. Era tutto color aragosto. Mi sembrava un acquadio per crostacei in doppio pecchio. Il gran papadero di Canale 5 era un omone gigantesco e gentile, dalla barba curata, ingessato blu, la sua pipa spenta e smettava sopra cataste di libri e copioni. Fu conciso e fantastico. Io non ti conosco, ma Albano e Romina li conoscono tutti. Ti ho messo in mano una Ferrari, adesso vincimi il Grand Prix di Monaco. Voglio il massimo ascolto, il record dei record. Portami il copione vincente la settimana prossima. Mi alzai perché erano entrati in puno. Dall'entusiasmo mi sarei messo a cantare piccola chetti su una gamba sola. Si sedettero alla scrivania del gran papadero, feci un inchino cumulativo e girai in tanti. Mi inventai provate stellari, battute e balletti. Albano fu il mio grande Gatsby e Romina, parlando di sua figlia, diceva cose come «Sai, Al, sono contenta che sia una bambina e spero che sia stupida. È la miglior cosa che una donna possa essere nell'Italia di domani, una bella, piccola, stupida». Venti papi. Il gran papadero se le resta attentamente sotto i miei occhi, rialzò i suoi, imparvero brillanti e compiaciuti. Disse «Bellissimo, Italia esemplifica. Ti aspetto fra una settimana, stesso giorno, stessa ora, se lo appuntò sull'agenda e mi congedò con un cielo». Aveva ragione, bestia che ero, troppo letterario, che mi ero creduto di fare in una tv commerciale Bertolt Brecht. Mi svissi tutto da capo pensando di rivolgermi a un bambino di dieci anni. Neanche il senso di una frase doveva sfuggire. «E' gente che torna a casa al lavoro, Jack, si stravaccano sul divano con moglie e figli, non devono agguzzare il cervello, tu li fai sforzare, falli sognare, falli ridere, falli divertire!» Tornai a Milano 2 con nuove proposte, scherce e battute che nella cucina del babà di Pulcinella sui abiti dove lavavano i piatti avrebbero capito tutti. Il copione della prima puntata era ridotto uno scheletro, dieci paginette. Il gran papà ve lo esaminò accuratamente, quasi con cautela, come stesse maneggiando un ordigno, ma qui e là rideva tra sé. «Ho ho ho, quest'amore!» Al termine hanno i convinto, restituendomi il mallotto. «Ottimo, taglia e semplifica!» Ritornai la settimana dopo, idem, mi ripresentai la successiva. «Ancora! Taglia e semplifica!» divenne il mio tormento. Stanco e furioso, scrissi una pagina sola di una banalità assoluta. Le ballerine erano vestite da carte da gioco. Il titolo dello show era «Poker d'assi». Il massimo dello sforzo richiesto al pubblico, immaginarsi la coppia di Cervino San Marco come il re e la regina di cuore. Presentata così «Benvenuti a Poker d'assi! I nostri assi sono due, ma valgono il doppio e cantano per quattro poker d'assi! Quattro magnifiche senate con Romina e Albano!» Applausi! Il gran papavero posò la pagina sulla scrivania con pensierosa contezza e disse «Ora è perfetto!» Mi pagarono un sacco di soldi, ma io mi vergognavo come se avessi ammazzato mia madre. Un giorno mi convocarono in religioso segreto. Era una gran papavera, stavolta, appena tornata dall'America, dove, mi sussurrono, era riuscita ad accappararsi i diritti di un game show della CBS che oltreoceano faceva furore. Si intitolava «The Price is Right». Non dovevo parlarne con nessuno. Mi chiese se volevo adattarlo per il pubblico italiano, personalizzarlo e darvi un tocco di magia ad autore, altrimenti temeva che gli spettatori avrebbero avuto una crisi di rigetto perché era pubblicità allo stato puro e noi italiani non ci eravamo abituati. Avevo smesso di fare il lavapiatti al babà e mi misi a stridare e lucidare a nuovo quello che da noi si sarebbe intitolato. Ok, il prezzo è giusto. Molti di voi se lo ricorderanno. I concorrenti dovevano indovinare il prezzo esatto dei prodotti in vendita, fra ovazione entusiaste dei fedeli all'apparizione di ogni vitello d'oro, un divano Foppa Pedretti, un 7 di Pentolella Agostina, una moto Honda CB 750. La voce celestiale di una madonnina invisibile decantava eroticamente le caratteristiche di questi oggetti del desiderio che il pubblico sbavava o di possedere. Quelle non erano più dolce jacuzzi o caffecchiere pianetti. Erano Moana Pozzi venuta a spogliarsi direttamente in cameratura. Insomma, il consumismo americano come se lo avrebbe potuto immaginare un cubano, un'orgia del benessere alla quale non era invitato. La visione delle videocassette della CBS nel residence color aragosta turbò anche me. Ero ancora un ragazzo, ma sono rimasto della stessa opinione. Quella televisione era una rivoltella puntata al cuore e al cervello della gente. L'anima del popolo italiano, come Pasolini aveva previsto con l'inesorabile lucidità, quella televisione l'avrebbe lacerata, violata, corruttata per sempre. Per fortuna mi avevano chiesto degli anticorpi d'autore. Li produssi lasciando intatto il format del game show, ma inoculando i batteri buoni del varietà all'italiana. Che altro potevo fare? Scrisse un copione pilota. Le grida della gran papavera risuonarono come quelle di un'anagosta, viva, gettata a bollire nella pentola. No! Questo non è più The Price is Right! Noi vogliamo esattamente quello! Ma allora copiatevi quello! Lei insistette. Voleva che il programma lo firmassi lo stesso. Non riuscivo a capire. Smisi di scrivere. Mi pagavano uguale. Era un mistero. Per rendermi utile accettai di ricevere nel piazzale antistante Arby Studios i pullman di casalinghe pensionati rastrellati in provincia dai caporari del Biscione per questo picnic nel capitalismo selvaggio. Come ciclisti gregari di Bartali avevano nasi tristi come una sabita e gli occhi allegri da italiani in gita. Anche se appena scesi dal pullman, ancora stupefatti da ritrovarsi alla TV, gli appiccicavano subito addosso un'etichetta gialla con il loro nome sopra, come Banane Ciclita. Il mio compito era di scovare i personaggi più variopinti e loquaci che sarebbero stati casualmente estratti per partecipare, tra assalti di gioia, la loro, e fischi invidiosi di tutti gli altri, al grande gioco in cui avrebbero potuto vincere da un bidet con bocca cromata orientabile a una Lamborghini Countach. Era d'autunno, tirava vento, dagli alberi di Milano II cadevano foglie secche e color aragoste ed io passeggiavo su quegli ali come una bruttana presta. La notte mi sfogavo al telefono con la mia ragazza di Roma. Avevo sempre sognato di fare l'autore, ero riuscito a entrare nel grande giro. Adesso mi sembrava di scippare le vecchiette. Terrorizzata che me ne tornassi a lavare i piatti, lei ne parlò a suo padre perché mi desse un consiglio. Si chiamava Oliviero, era un gran signore di quelli di una volta, che si sarebbero strozzati da soli con la cravatta, piuttosto di attestare l'arciperale della mantalena sopra un panfilo per farsi fotografare dei paparazzi. Avevano soldi, prestigio e potere, ma sembravano scusarsi della loro fortuna. Tant'è che io lo avevo scambiato per un veterinario e un dentista. Mai mi sarei immaginato che amministrasse grandi patrimoni in tutto il mondo. Di passaggio a Milano, Oliviero mi invitò in Alberto a prendere un caffè. Sua figlia gli aveva fatto una testa così e già sapeva tutto, ma ascoltò paziente la versione apocalittica di un ragazzino che, sognando di diventare Jack London, era finito a decantare frullatori girmi e divani chateau dance. Quando mi fui sfogato, disse «Non puoi cambiare programma. Propognili qualcosa di tuo». Risposi che ce l'avevo già provato. Era stato come vendere un igloo in condo. Il padre della mia ragazza mi propose «Se vuoi, provo a parlarci io. Vedo di farti ottenere un appuntamento col braccio destro di Berlusconi. Ho appena trattato con loro la vendita di una villa affacciata sul parco dei Daini, accanto all'ambasciata greca, per conto di una mia grande amica, una vettigliera argentina. Non amo quella gente, ma se vuoi lo faccio». Mi risposi che era molto gentile da parte sua. Lui mi guardò dritto in fondo al cuore. «Sicuro? Guarda che sono mafiosi. Mi sembrò un matto». «Scusate». Rispose «Forse non tutti quelli che ho conosciuto io, ma quei due lì, sicuro». Scoppiai a rigore, mafiosi. «Bum! E lei come lo sa?». Mi guardò con amarezza sconfinata. E non rispose. La settimana dopo ero seduto di fronte a Marcello del Lutro. Forse a Natale era stato in vacanza alle Maldive, o forse soffriva di pressione alta. Fatto sta che aveva la faccia colore aragosta, sul doppio petto mio. Più io parlavo, più lui si sforzava di capire che cosa cavolo volessi. Incomunicabilità assoluta. Devo essergli sembrato un pazzo, uno che chiede rose in macereria. Ma aveva ragione lui. «Non puoi pretendere che gli altri si allenino. Quando fuori, quello fuori posto sei tu». Dopo un quarto d'ora di quella settatura sbottò. «Ma cosa vuole? Più soldi? Se vuole più soldi non c'è problema, altrimenti non la capisco. Lei che cosa vuole?». «Ma cosa vuole?». «Ma cosa vuole?». «E non lo so evitare». Dopo un quarto d'ora di quella seccatura sbottò. «Ma cosa vuole? Più soldi! Se vuole più soldi!» «C'è problema?» «Altrimenti non la capisco. Lei che cazzo vuole?». Mi veniva l'orticaria solo a guardarlo. «Niente», risposi. Alzò le spalle, si chinò sulla genua, tirò un rigo sul mio nome e fece entrare un altro postulante. Tornando a Residence per fare le valigie, mi imbattei in un amico, un giovane regista che avrebbe fatto fortuna. Nel tentativo di dissuadermi dalla sua folle decisione, si scoprì il polso e mi mostrò un rovex d'oro. «Lo sai quanto vale questo?». «Non fate il poeta, gente. Hai idea di cosa mi perdi. Perché lui lo regalerà anche a te, è matematico. Lui chi?» «Come lui?» «Il cavaliere». Lo guardai sbagliato e triste. Mi sembravano posseduti dagli extraterrestri, copie di uomini senza più sentimenti. Milano II era diventata per me come Santa Mira, la cittadina del film, l'invasione degli ultracorpi. Se ti sembra esagerato, guardati intorno oggi e vedi. Dici che semplifico? La verità è sempre la più semplice. La verità è come il corpo del reato, proprio perché sta sotto gli occhi di tutti, di tutti gli investigatori. Nessuno la vede. Avremmo dovuto combattervi su tutti i fronti, palmo a palmo, parola per parola, soprattutto dentro noi stessi. Ci siamo lasciati sedurre, ci siamo fatti mettere il cartellino col prezzo, poi ci siamo lamentati perché il banditore d'asta era senza cuore. E perché mai avrebbe dovuto averlo? Ora dobbiamo ricominciare dal punto in cui siamo sbalviti, difendere il nostro sentiero passo a passo, senza più pretendere di chiedere al diavolo di fare il nostro mestiere. Grazie. 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 Adesso io vi devo confessare una cosa, che circa 20 minuti fa è venuto qui dietro un carabiniere, nonché un tecnico anche, e ha detto guarda che si rischia la vita qua sopra per il fatto della pioggia. Io ho rischiato, sono un giocatore, tutte le vostre vite per andare avanti. Adesso a questo punto però siete salvi, credo che sia il caso di finirla qui, perché allora, loro dovevano poi suonare, ma io direi, noi ci spostiamo in qualche posto dove mangeremo al coperto, adesso vi dovrà dire qualcuno quale posto, se qua al pub o se invece al ristorante in Mendicante se avete prenotato, perché forse qua, comunque qua dobbiamo spegnere tutto l'armamentario. Apparentemente siamo stati sfortunati, poi non è detto perché ne facciamo subito un altro in un posto al coperto, e comunque vi ringrazio tantissimo di essere qui, e mi avete capito, 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 mi avete capito. Tra l'altro una cosa che ci ricorderemo, perché Gianluca Lalli che canta peraltro è benissimo, il cielo è sempre più brutto, mentre viene giù, direi Dio è troppo bello. Fantastico, fantastico, è una rotatissima. Grazie. Grazie.